angelina mango è fuori con il suo nuovo album da ieri 31 maggio all'interno tanti brani e collaborazioni tra cui una molto speciale che ha emozionato mamma laura continua inarrestabile il successo di angelina mango la vincitrice del festival di san remo 2024 la cantante è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione ad amici il programma che le ha permesso di conquistare il cuore del pubblico e dei professori in studio travolti dal suo meraviglioso talento angelina ha vinto la categoria canto e dopo la fine del programma ha letteralmente sfondato la partecipazione e la vittoria al festival sono stati due traguardi che ancora oggi emozionando al solo pensiero la giovane artista angelina si è anche esibita all eurovision portando sul palco il brano più ascoltato ovvero la noia angelina mango emoziona mamma laura cosa è successo si chiama poche melodrama il nuovo album di angelina e al suo interno ha molteplici brani e collaborazioni con artisti famosissimi l'artista ha duettato con marco mengoni breche danny five e con villa banks una sorpresa ha però emozionato la madre la bravissima laura valente tra i tanti pezzi uno è stato scritto insieme al fratello filippo una fusione speciale che ha permesso ai due ragazzi di poter unire le proprie per forze per dare vita ad un successo clamoroso si intitolata edmund e lucy il brano ed è inserito tra i pezzi del nuovo album angelina è nata a suon di musica il papà pino mango resterà per sempre una delle voci più belle del panorama musicale italiano non poteva che scaturire anche nella ragazza la passione per la musica e la ricerca dell'arte in tutte le sue forme questo è un momento importantissimo per la cantante tutti i riflettori sono puntati su di lei e il successo sta travolgendo la sua vita riuscirà angelina a preservare ed innalzare quanto raggiunto fino ad oggi questa è la vera sfida molte artiste una volta uscite da amici hanno nel tempo perso l'attenzione mediatica alcune di loro invece continuano ad emergere in modo decisivo un esempio lampante è rappresentato da analisa elodie emma e alessandra amoroso cosa aspettarsi da angelina giovanissima sta dimostrando caparbietà e voglia di ribalta vivere di musica è tutto quello che desidera e di sicuro per il momento l'obiettivo è raggiunto solo il tempo potrà rivelarci se i tasselli conquistati in questi anni rappresenteranno importanti trampolini di lancio per un futuro entusiasmante come il papà anche angelina possiede una dote innata ovvero una voce che per quanti studi e lezioni si possano fare appartiene solo a pochissime persone